Allora come vedete purtroppo non ci avviciniamo molto ma oggi la situazione pare essere decisamente diversa rispetto a quella di ieri, come vedete ci sono tantissime persone dentro nel lago proprio nel punto forse più critico dove lì sono successe le disgrazie dei giorni scorsi, come vedete oggi senza controlli la situazione sembra essere un po' tornata a quella dei giorni precedenti, vedete anche alcuni proprio nel punto più critico perché lì dove vedete ci sono queste persone il lago declina in maniera importante e rapida e ovviamente mette in difficoltà chi non sa nuotare.